Sì, ma noi in Esplodio parliamo sempre perché questo è un gruppo molto sano, un gruppo bello, un gruppo buono, quindi ci siamo parlati, ha parlato pure il mister, ci ha detto di giocare questa partita, di spensiera, di liberi, di testa, poi abbiamo lavorato qualche situazione tattica in campo questi due giorni, che ci siamo proposti a farla oggi, penso che abbiamo fatto una delle migliori partite del campionato, e niente, contento per il gol, se lo dedico a mia moglie, a mio figlio, che mi hanno sostenuto in questo periodo un po' particolare. Sì, l'ho detto prima, quando sei in questi periodi così difficili, purtroppo le partite si vincono così, soffrendo, l'abbiamo vinta così, e ora, come hai detto te, un mattoncino alla volta, possiamo lavorare tranquilli questa settimana, non mollando niente, non mollando un centimetro, ma lavorando un po' più tranquilli col mister nuovo e preparando la partita di fin di settimana prossima. Sì, 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 come dici te, purtroppo in questi momenti non puoi sbagliare niente, perché secondo me il primo tempo non abbiamo sbagliato niente, è stato bravo lui a mettere la parola in croce dei pali su quella punizione, poi ti porta un po' a, in questo periodo, la testa ti gira in campo, e ti porta un po' a magari sbagliare cose che non stavi sbagliando prima, e poi il secondo tempo loro sono partiti forti, hanno fatto una grande partita pure loro, e dopo ci siamo ripresi e per fortuna li abbiamo portati a casa. No, ci siamo trovati bene, ci siamo parlati tanto, era la prima volta che giocavamo insieme, e abbiamo parlato tanto questi due giorni e penso che ci siamo trovati bene, tanto io con lui come lui con me. No, vabbè, in questo periodo non ci siamo detti proprio niente, abbiamo urlato, c'è stato uno sfogo proprio da tutti, e penso che, come ti ho detto, possiamo lavorare un po' più tranquilli questa settimana. Non mollando niente, perché dobbiamo scala matoncino a matoncino, uno alla volta, e tirarci fuori di questo. Sì, sì, e pure per loro queste vittorie che ci hanno caricato di tutte le partite in questo periodo difficile, quindi...